Inclusione lavorativa e proiezione verso il futuro. Sono questi i principi che hanno ispirato le associazioni Amma Filippo, BIC e Dopodinoi Onlus, che hanno permesso di vivere ai ragazzi speciali da loro assistiti una serata diversa in una nota pizzeria del lungomare. Oggi farò per appalcare, spaccare, mangiare alle persone, ordinare il mangiare, e portare le bibite, portare tante, tutti quelli che richiedono la gente da mangiare. Ti sei esercitato a casa con la mamma, magari ti sei esercitato? Sì. E come è andata a casa? Benissimo, perché aiuta abbastanza mia mamma pure. Cosa farai stasera? Mi spiegherò la tavola, a preparare la tavola, mi piace usare questa esperienza, mi trovo bene con il turto, con la arse e la margherita, vado ogni giorno e ogni ventina a ripiera, faccio il sottolavoro che faccio qui, faccio a ripiera. Ti senti emozionato? Buonasera. Grazie al sostegno dei professionisti del settore della ristorazione, i ragazzi che vivono delle fragilità hanno lavorato per una sera, come detti, alla sala, alla cucina, e alcuni di loro si sono anche improvvisati pizzaioli. Il nostro scopo è nell'inserire questi ragazzi all'interno dell'associazione, fargli fare un percorso di crescita e inserirli, proprio immedesimarli in questo lavoro e offrire un servizio di sala, io lo definisco molto allegro, molto gioioso per quanto riguarda le prestazioni che potranno offrire questi ragazzi. Ognuno di noi dovrebbe uscire nel proprio cuscio per fare attenzione anche a questi ragazzi, vogliono apprendere e speriamo che noi siamo all'altezza di farli apprendere, sia come pizzeria, sia come sala e sia come cucina. È bellissimo perché facciamo una formazione speciale, dei ragazzi speciali. Vogliamo cercare di riuscire nell'intento di creare un'inclusione vera nel nostro settore, grazie a Gaetano Berrittella, che tra l'altro è il mio formatore antico, è il mio primo maestro, grazie a Limar che sta accogliendo la nostra iniziativa. e devo dire che sarà un percorso fantastico dove abbiamo intenzione realmente di riuscire. L'obiettivo di questa esperienza è abbattere le barriere che si interpongono tra i ragazzi disabili e il mondo del lavoro. Questo è sempre il nostro fine, è un'inclusività vera, effettiva, reale, che non sia solo un evento, ma che ci sia un proseguo e che si possa sempre collaborare insieme ad altre associazioni, così come stiamo facendo. La disabilità può essere una limitazione delle funzioni. Questa limitazione può essere osservata laddove la persona si trova, a dover superare degli ostacoli. Se noi questi ostacoli li livelliamo, allora la disabilità non esiste. esiste la limitazione alla funzione. Quindi un'inclusione sociale, un'inclusione lavorativa, un'inclusione che porta i ragazzi a vivere, viversi, riuscire ad avere risultati all'interno di una vita che purtroppo magari non ha dato. Però grazie a queste realtà virtuose, grazie alla collaborazione e alle associazioni, noi cerchiamo e speriamo di continuare questo percorso e dare dignità e vita a tutti.